ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario neatox fatra industria farmaceutica veterinaria spa ultimo aggiornamento 21 giugno 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione principio attivo indicazioni posologia tempi di sospensione a cosa serve neatox è un medicinale veterinario a base del principio attivo ciano cobalamina più fruttosio più sorbitolo più sodio cloruro più acido lattico più potassio cloruro più calcio cloruro più magnesio cloruro più aminoacidi appartenente alla categoria degli minerali nutritivi disintossicanti e nello specifico calcio associazioni con vitamina d e barra o altri farmaci è commercializzato in italia dall'azienda fatra industria farmaceutica veterinaria spa neatox può essere prescritto con ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare fatra industria farmaceutica veterinaria spa concessionario fatra industria farmaceutica veterinaria spa ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile principio attivo ciano cobalamina più fruttosio più sorbitolo più sodio cloruro più acido lattico più potassio cloruro più calcio cloruro più magnesio cloruro più aminoacidi gruppo terapeutico minerali nutritivi disintossicanti forma farmaceutica flaconi iniettabili confezioni neatox iniette soluzione flacone 500 ml principio attivo ciano cobalamina vit b12 0,005 mg fruttosio 50 mg sorbitolo 50 mg sodio cloruro 6 mg sodio lattato 3,0 48 mg potassio cloruro 0,4 mg calcio cloruro 0,2 mg magnesio l arginina 1,98 mg pari a l arginina cloridrato 2 39 mg l ornitina 0,94 mg pari a l ornitina cloridrato 1,2 mg l citrullina 1,2 mg indicazioni stati di intossicazione esogena o endogena conseguenti a malattie e barra o condizioni particolari di allevamento diarree infettive e non stress da viaggio gravidanza alimentazione iperproteica sovraccarico di urea collasso puerperale acetonemia disidratazione acidosi e stati di debilitazione posologia via di somministrazione sottocutanea endoperitoneale o endovinosa equini e bovini adulti 250 500 ml barra capo vitelli pulidri e suini adulti 150 250 ml barra capo cani e gatti 20 50 ml barra capo tempi di sospensione carni 0 giorni latte 0 ore fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la parma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato grazie a tutti